Carceri. Tre evasi stanotte da Favignana. Ansa. Palermo. 28 ottobre intorno alle 3 di stanotte tre uomini sono evasi dal carcere dell'isola di Favignana. Sembra dopo aver segato le sbarre. La notizia è stata confermata dalla direzione del penitenziario. Fra i tre evasi c'è anche un ergastolano. Adriano Avolese. Condannato per omicidio. Originario di Pacchino. Nel Siracusano. Gli altri due sono di Vittoria. Ragusa. Giuseppe Scardino e Massimo Mangione che avrebbero dovuto finire di scontare la pena nel 2032 e nel 2037. I tre dopo aver segato le sbarre sono saliti sul tetto del reparto e con delle lenzuola a mo' di fune. Si sono lanciati sul muro di cinta. Poi, sempre con le stesse lenzuola. Si sono calati sulla strada. Altro su MSN. 24 anni all'untore di Roma. Euronews. Riproduci nuovamente video successivo. Un anno fa il terremoto a. Norcia il canto di Monaci Benedettini e Cancelletto 232. Stato uno dei momenti della giornata di commemorazione del terremoto a Norcia. Soccorritori. Cittadini. Rappresentanti politici e religiosi si sono ritrovati davanti alla Basilica di San Benedetto alle 7.41. Esattamente un anno dopo la scossa di magnitudo a. 6.5 che colpa a. Cancelletto 236. Il capoluogo della Val Merina e d'altre locali a. Cancelletto 224. Ombre come Preci, Cascia e Castelluccio. L'anniversario del sisma a. Cancelletto 232. Stato ricordato anche nelle Marche. Un'altra regione sconvolta dai terremoti dello scorso anno in centro Italia che hanno provocato. Danni da oltre 22 miliardi. La ricostruzione resta difficile. Delle quasi 4.000 casette di emergenza ne sono state consegnate soltanto poco pende Cancelletto 249. Di 1.000. 6.500 persone sono ancora assistite dal sistema di protezione civile. Fra i motivi dei ritardi il sisma del 30 ottobre che ha allargato l'area colpita costringendo a. Rifare le verifiche. Euronews. Le saudite potranno andare allo stadio le donne saudite. Per la prima volta potranno assistere a eventi sportivi in tre stadi. Dal prossimo anno potranno recarsi nelle strutture di Riad. Jedda e Dammam. Una cosa impossibile attualmente visto che anche negli stadi viene applicata la regola della separazione fra i sessi nei luoghi pubblici. A settembre era stato eliminato un altro divieto nei confronti delle donne. Quello di guidare. Le saudite potranno mettersi al volante a partire dal prossimo giugno. Soltanto due anni fa hanno potuto votare per la prima volta alle elezioni amministrative. Resta da vedere se le misure del re Salman sia soltanto di facciata visto che il paese ande cancelletto 232. Fra i pende cancelletto 249. Conservatori al mondo. Le saudite sono costrette a vivere sotto tutela degli uomini. Non possono sposarsi, divorziare, viaggiare, studiare, ottenere un documento di identità e cancelletto 224. Senza l'autorizzazione di un familiare maschio e non hanno diritto a processi equi. Euronews. Le saudite potranno andare allo stadio le donne saudite. Per la prima volta potranno assistere a eventi sportivi in tre stadi. Dal prossimo anno potranno recarsi nelle strutture di Riad, Jedda e Dhammam. Una cosa impossibile attualmente visto che anche negli stadi viene applicata la regola della separazione fra i sessi nei luoghi pubblici. A settembre era stato eliminato un altro divieto nei confronti delle donne. Quello di guidare. Le saudite potranno mettersi al volante a partire dal prossimo giugno. Soltanto due anni fa hanno potuto votare per la prima volta alle elezioni amministrative. Resta da vedere se le misure del re Salman sia soltanto di facciata visto che il paese ande cancelletto 232. Fra i piend e cancelletto 249. Conservatori al mondo. Le saudite sono costrette a vivere sotto tutela degli uomini. Non possono sposarsi, divorziare, viaggiare, studiare, ottenere un documento di identitent cancelletto 224. Senza l'autorizzazione di un familiare maschio e non hanno diritto a processi equi. Euronews, 1 a 0, IMPOS TA ZION E NON attivo. HD HQSDLO